Dottoressa Gritti, lei si occupa da tantissimo tempo di lusso, secondo lei come è cambiato il settore e quali trend osserva per il 2016? Il settore è cambiato in maniera, devo dire, esponenziale e vertiginosa. Francamente anche con le ultime quotazioni, l'ultima è Moncler, ma se andiamo a Ferragamo e a Cucinelli, prima esperienza di una quotazione di società italiane che stanno andando molto molto bene. Un momento molto particolare per fare delle previsioni del 2016, perché in realtà la volatilità che sta riguardando il lusso in questi giorni è qualcosa tutta ancora da definire. Tante variabili, fino a ieri la Cina, adesso già si parla di qualcosa di diverso per quello che sta succedendo ora. direi sempre delle buone valutazioni, un 2016 di grande attenzione a decodificare delle variabili che comunque stanno interessando queste società come non era mai avvenuto prima. Quindi anche in termini di valutazione penso che soprattutto sulle quotate ci sarà da prendere un po' le misure di come qualcuno andrà oltre il 2016. Grazie dottoressa.